I primi a proporre di utilizzare l'ospedale di Sant'Arsenio nell'emergenza coronavirus con un documento datato 17 marzo ed indirizzato tra gli altri al governatore Campano De Luca e ai vertici dell'Asel di Salerno furono tre professionisti di Sant'Arsenio, l'ingegnere Arsenio Cutolo, il dottore tecnologo Luigi Franco e il dottore Luigi Pandolfo. I tre professionisti proponevano di utilizzare la struttura della Santissima Annunziata in questo momento per fronteggiare l'emergenza covid-19. Il presidio ospedaliero spiegavano nel documento si trova nel comune di Sant'Arsenio poco distante dalla tre del Mediterraneo quindi facilmente raggiungibile dall'area del Salernitano e dalle zone limitrofe, ha spazio a sufficienza e può essere isolato. Animati da un forte senso di appartenenza al territorio spiegano in un documento odierno e per fronteggiare le difficoltà che si presentavano ai cittadini a causa dell'emergenza sanitaria abbiamo avanzato una sintesi della nostra proposta a diverse rappresentanze istituzionali, civili, ecclesiastiche e scientifiche, al fine di sensibilizzare quanto più possibile gli organi decisionali con i quali si è starato un continuo e profico confronto. La documentazione è stata inviata tra gli altri al sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica, al direttore generale dell'Asl di Salerno Mario Iervolino, al ministro della salute Roberto Speranza e al professore Giuseppe Ippolito, responsabile scientifico dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Proprio il professore Ippolito, originario di Sant'Arsenio, ha inviato una lettera lo scorso 2 aprile al governatore Campanno Vincenzo De Luca e per conoscenza ai tre professionisti, nella quale evidenzia come il Vallo di Diano può contare sul solo presidio ospedaliero Luigi Curto di Polla e che quindi è necessario un urgente potenziamento dei posti letto, ma soprattutto la creazione di strutture specificamente destinate ai pazienti infetti. Il professore Ippolito ha quindi posto all'attenzione di De Luca la struttura ospedaliera di Sant'Arsenio, che adeguatamente potenziata, distante solo 7 km da quello da Polla, potrebbe rivelarsi estremamente utile per fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria per i cittadini del Vallo di Diano e delle zone limitrofe. Nel documento Ippolito è infatti sottolineato che sfortunatamente ancora troppi falsi profeti sproloquiano dando un falso senso di sicurezza per la rapida fine dell'epidemia, senza dire che è necessario non mollare e prepararsi ad una convivenza con il virus, anche una volta che è finita la fase di massima espansione. Da qui i tre professionisti lanciano ancora un appello agli amministratori del territorio affinché lavorino all'unisono per potenziare e rendere eccellente il sistema sanitario del Vallo di Diano, attualmente frammentato ed impoverito da tagli strutturali e di personale. Il documento è correlato anche con una breve descrizione della struttura ospedaliera di Sant'Arsenio e con una planimetria e lo stato di fatto degli spazi potenzialmente utilizzabili quali Covid Hospital.